Balneatori, istituzioni, lega ambiente, la Difonso S.p.A. Un incontro serrato, costruttivo, tra idee e esperienze innovative da ripetere, anche lo smarrimento su decine di questioni, a pochi giorni dall'inizio ufficiale della stagione balneare. La gestione delle spiagge libere continua ad essere problema spinoso e ancora irrisolto, nell'attesa che la regione riveda l'ordinanza sul controllo di chilometri di costa, di cui i comuni non potranno farsi carico senza sostegno economico. Le strutture ricettive sono alle prese con norme, distanze e protocolli, la necessità di garantire servizi ma soprattutto sicurezza. Molti aspetti non ancora sono chiari ma si partirà comunque con fiducia, la voglia di mare del resto è sempre forte. L'incontro si è tenuto al parco dei priori di San Giovanni in Venere, il sindaco di Fossacesi Enrico Di Giuseppe Antonio. Abbiamo avuto un confronto serrato ma sereno e costruttivo. Intanto c'è una notizia che mi fa immensamente piacere, gran parte degli stabilimenti balneari ha ricevuto la prenotazione come l'anno scorso, per cui il turismo conferma un trend positivo per Fossacesi. E poi ci siamo anche confrontati sulla sicurezza che loro sicuramente garantiranno. Di questo devo dar atto a loro dell'accortezza nel preparare una spiaggia sicura. E' confermato il felice connubio tra balneatori e sistemi di trasporto innovativi. L'anno scorso il bike bus ha avuto successo e quest'anno lo sarà ulteriormente. L'idea di raggiungere il litorale in bus con la possibilità di trasportare la bici è piaciuta e quest'anno ci sarà la possibilità di aggiungere anche la prenotazione dell'ombrellone del ristorante e anche di altri servizi usufruendo di sconti. Un pacchetto completo in tempi di vera e propria rivoluzione dei concetti di mobilità precedenti. Alfonso Difonso presidente della Difonso S.p.A. Perché non prenotiamo autobus, portabici e ombrellone visto che probabilmente la spiaggia libera comunque sarà soggetta a restrizioni e gli stessi operatori non avranno a disposizione i numeri dell'anno scorso. Quindi forse chi parte da Lanciano gradirebbe trovare il posto sull'autobus, magari il posto per la bicicletta e forse anche l'ombrellone o il ristorante prenotato sulla spiaggia. Quindi quest'anno la sinergia potrebbe addirittura allargarsi perché potrebbe prevedere la prenotazione completa del pacchetto. E poi legambiente che sostiene Vigila promuove il turismo sostenibile, tempi difficili quelli dell'era coronavirus ma al contempo opportunità per accelerare processi nuovi e modelli che garantiranno un futuro migliore. Giuseppe Di Marco, presidente regionale. Immaginare spiagge diverse, più accessibili e al tempo stesso ecosostenibili con servizi che tengono al centro il corretto utilizzo della raccolta differenziata, quindi meno rifiuti e più attenzione ma anche un principio di sostenibilità diversa che immagina anche servizi turistici che leghino di più l'entroterra alla costa, quindi con escursione la riconquista di spazi verdi.